Buonasera, buonasera per voi, prima della lettura dalle formazioni, noi conosciamo il pilone, e noi non so una cosa da fare, sono un po' di rifiut, la coreografia è esposta durante l'itno della Champions, non durante il nostro inno, durante il nostro inno, come sempre, sulle nostre sciarge, sulle sciarge di acore, la coreografia è esposta durante l'inno della Champions, pochi, pochissimi minuti, dal fisico di inizio, vediamo insieme i programministi del mercato, hanno entrato incontro il signor Parkinson, assistente di signor Monarchia e il signor Taylor Marino, comunichiamo l'informazione delle scuole, a disposizione delle scuole, Al preamazione della Cro Garlic ha risposto durante il nostro inizio, non ormai O destroyed le scuole al Covid Numero tre, Giorgio, Piede Lili, Numero otto, Claudio, Marticio, Numero nove, Alvaro, Morata, Numero dieci, Carlo, Seve, Numero diciannove, Leonardo, Manucci, Numero ventuno, Andrea, Piro, Numero ventitre, Alvaro, Piro, Numero ventisei, Stefania, Pisteshire, Numero ventisei, Stefano, Pурaro, Numero trentitre, Patris, Stefana, A disposizione il Madrid è la grattata scolari, Serbo Pepe, 14-30, 15-50 anni, Marco Padri, 31-4, 37-4, Marco Monti, ci lasciate, fuori l'omage e ancora l'alto, tenendo la fine, forza! Grazie!